Si possono inventare dei nemici, si possono inventare dei miti per poi abbattere, dei fettizi, ma non si riesce fuori. Che succede qui? Ha portato dentro un mio amico, spazzatore di eroina, non è vero, è un poverazzo come me, cos'è sta storia? E lo picchiano, sai? Lo picchiano, sono la migraia che lo picchiano. Cos'è, eh? Lo vogliamo libero o no? Che c'hai, guardami, tu? Che cosa stai, guardami, eh? Stai lì, è così, eh? E tanto le pestano, eh? Guarda, c'è che pilla, eh? Oh! Che stai, ma? Costiamo ai compagni che hanno preso questo fantomatico spacciatore di verificare meglio questa cosa, eh? Va bene? I compagni che hanno preso questo fantomatico spacciatore, Cristo si chiama, lo portino qui al palco immediatamente. Non è uno spacciatore! Comunque lo portino al palco, poi ci decide. Compagni, adesso porteranno qui questo fantomatico spacciatore di droga, comunque questa persona accusata di spacciare eroina. Veriamo, calmi, dai! Verificheremo rispetto agli elementi che il servizio d'ordine avrà raccolto se questa persona è realmente o no uno spacciatore di eroina. Siccome questo è un problema che esiste all'interno del festival, è un problema quello degli spacciatori, è un problema quello dell'eroina, i problemi sono infiniti, no? Poi compagni, non è solo che è per questo che ci possono rimettere le penne, ma è rispetto a tutto! Sì, non è solo! Grazie a tutti.